Il treno regionale 5026, di Trenord, proveniente da Cremona, è diretto a Pavia, delle ore 6 e 24, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 5062, di Trenord, proveniente da Codogno, è diretto a Pavia, delle ore 7, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 5063, di Trenord, proveniente da Belgioioso, è diretto a Codogno, delle ore 7 e 0 1, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 5065, di Trenord, proveniente da Pavia, è diretto a Codogno, delle ore 20 e 38, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 5181, di Trenord, proveniente da Pavia, è diretto a Cremona, delle ore 21 e 38, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni.